Era composta da circa 50 persone la delegazione dei lavoratori del settore della ristorazione, accompagnati dal segretario Confcommercio Davide Ipaso e dal presidente dell'Associazione Albergatori Fabrizio Liva, che questa mattina si è recata nella sala consigliare del Comune di Pesaro per chiedere un incontro con il sindaco Matteo Ricci, volto ad illustrare le difficoltà economiche sempre crescenti causate dalla crisi pandemica. L'invito rivolto all'amministrazione è stato quello di trasmettere la voce dei lavoratori locali a livello regionale e nazionale per chiedere adeguati aiuti e ristori. Ci hanno ricevuto, purtroppo non c'era il sindaco a rispondere alle nostre domande, tenendo in considerazione comunque che non lo abbiamo avvertito perché volevamo fare una manifestazione di sensibilizzazione. Abbiamo attivato, spendendo migliaia di euro per attivare i protocolli Covid, per evitare che ci venissero, ci fossero possibilità di creare positività all'interno del locale. Poi dalla sera alla mattina ci hanno dichiarato praticamente un tori e ci hanno chiuso. Il Natale non è andato perché ci hanno chiuso e in questo momento le attività sono con l'acqua e la gola. Molti dei ristoratori ci stanno dicendo che non ce la faranno e allora siamo venuti qui per far capire che vogliamo e che venga garantito l'articolo della Costituzione nel quale c'è il diritto al lavoro. È stato un Capodanno a un Natale duro ma non credo che ci si possa limitare il Capodanno, è al Natale. Bisogna rapportarsi a tutto quello che è stato il lavoro di questi ultimi mesi. Gli alberghi annuali oramai sono chiusi da qualche mese. Noi non abbiamo un codice a teco che non ci permette di lavorare, ma non lavoriamo perché non c'è gente. Non ci sono eventi, non ci sono congressi e non c'è più il turismo del business. In questo decreto del ristoro di Natale noi siamo stati esclusi. Questo è un grave errore che ha fatto lo Stato. L'estensione praticamente di questo Stato di situazione ieri è stato spostato al 31 di luglio quindi si verificherà ancora una volta se si riuscirà a partire per la stagione estiva che le prenotazioni arriveranno sempre all'ultimo minuto e succederà anche che quindi non possiamo contare nemmeno sulle capare delle prenotazioni. I punti essenziali che abbiamo chiesto questa mattina sono prima di tutto che il sindaco faccia sentire la nostra sofferenza in una situazione di apertura e di intermittenza senza sapere né conoscere le date in cui saremmo aperti o chiusi. Poi il secondo punto fondamentale è quello di rimodulare in qualche modo le varie utenze che sono di competenza del Comune e in cui il Comune possa intervenire in alcune decisioni che è tipo acqua, tari e tariffe nel genere che vengono rimodulate in base a quelle che possono essere le esigenze. Se mai anche in maniera temporanea non si chiede di cambiarle del tutto per sempre ma rivedere e venirci incontro in un momento così difficile in cui si pensava che il 2020 fosse finito tutto invece il 2021 rinistra come il 2020. Presente all'incontro anche l'assessore con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci che ha illustrato ai lavoratori presenti le misure messe in campo dall'amministrazione comunale dall'inizio dell'emergenza anticipando poi la volontà di rinnovare anche per il 2021 l'assegnazione di spazi pubblici gratuiti destinati all'attività. Il Comune ha delle competenze e fin dove è potuto ha fatto tutto quello che era possibile e adesso ci attiveremo anche per pensare a un futuro. Speriamo che insomma con il vaccino finisca al più presto questa situazione è un anno che stiamo vivendo la pandemia e poi gli faccio a tutti i migliori auguri e gli ringrazio innanzitutto per l'educazione che hanno avuto e la pazienza e hanno capito tutto quello che il Comune di Pesaro ha cercato di fare. Ora è importante spingere tutti insieme, chiedere dei ristori alla Regione che siano direzionali verso la loro categoria che è in difficoltà e la stessa cosa noi continueremo a farla con il Governo. Riguardo agli spazi ti do la notizia in anteprima oggi, ne avevamo già parlato in giunta e siamo ben disposti a dare questa possibilità perché abbiamo visto che funziona non solo il discorso della pandemia ma proprio siccome la città di Pesaro si vuole puntare adesso in questa parentesi di questo anno è stato particolare, però si vuole puntare al turismo e vedendo che dando questa possibilità di allargare gli spazi ha funzionato anche perché si è visto che le persone comunque c'erano e sono rimasti insomma contenti.